Siamo al congresso di Firenze, dopo aver fatto già una bella esperienza sua a Milano, con il congresso che abbiamo avuto a Milano. È un momento per stare tutti insieme, di grande rilancio, un evento che mancava da Firenze da tanti anni. È stata la nostra volontà portarlo in questa sede. L'evento successivo sarà a Palermo, importante, chieda a tutti di partecipare, per cui coloro che hanno la possibilità di essere vicino a una regione così bella come la Sicilia, Palermo sarà un altro evento di grande successo con dei grandi relatori. Siamo qui, il nostro lavoro è quello di difendere lo spazio professionale, che tutti i giorni è messo a repentaglio da interpretazioni piuttosto bizzarre di molti interlocutori. Pertanto ci stiamo spostando su questa linea, sia al Ministero della Sanità che al Ministero Tecnico della Sanità, tant'è che andremo incontro a una nuova iscrizione dell'ITCA, dove sarà comunque importante evidenziare il nostro codice Ateco, che ha una connotazione ben precisa. Vi aspettiamo tutti e numerosi a Palermo il 4 di novembre.